...della città o di Carmelo Nigrelli? Ma è una visione della città come vedi, basta guardare cosa sta succedendo. La prima cosa che farai qual è? Parlerò con tutti gli impiegati comunali perché devo motivarli, perché bisogna lavorare tantissimo e andrò a visitare tutti i posti dove le associazioni o le persone sono più vicine a chi ha disagio. In bocca al lupo! Grazie, ciao!